Vediamo queste immagini di alta didattica, l'acqua che aumenta l'intensità di flusso proprio in questi istanti, dovuta al momento centrale della giornata nel quale siamo, sono le 14.50 circa, siamo nel settore centrale del ghiacciaio, fusione attiva, zero termico oltre i 4.500 metri. Vediamo questo settore frontale in disfacimento, che è un nevaio stagionale, mentre qui si vede la zona glaciale con detriti superficiali. Questa è la zona ormai senza più alimentazione, tranne quel breve tratto lì, mancanza di neve residua almeno sulle parti più esposte. Da su invece si vedono i cornicioni e gli amassi sulla zona subvenzionale, più alta. Ormai l'acqua ha un flusso più elevato. Grazie. Grazie. Grazie.